Arrivano oltre 17 milioni di euro per le palestre scolastiche e le strutture sportive siciliane. E' quanto fa sapere in un comunicato la sottosegretaria al Ministero dell'Istruzione, Barbara Floridia, che annuncia la pubblicazione della graduatoria relativa ai finanziamenti per la Sicilia dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per le nuove costruzioni e l'efficientamento di quelle esistenti. Graduatoria relativa a comuni ed ex province regionali, ammessi al bando e messo dal Ministero dell'Istruzione, che prevedeva la presentazione di proposte per la messa in sicurezza o la realizzazione di palestre scolastiche da finanziare nell'ambito dello stesso Piano Nazionale. Circa 12 milioni e 700 mila euro sono in arrivo per le strutture sportive di competenza comunale, mentre 4 milioni e 450 mila euro riguardano le ex province. Nello stesso documento si legge che il Piano si pone tra i suoi obiettivi principali anche quello del potenziamento dello sport a scuola e l'acquisto di attrezzature adeguate. E ciò servirà sia ad ampliare l'offerta didattica complessiva, sia ad aumentare la diffusione delle strutture sportive nel territorio.